ho spento gli incendi ma potrebbe esserci da un po' sotto breve, uno che lo sia in atto si ma ci sta provando a raggiungere ma sta fallendo prendo, si prendo un po' un po' d'acqua per vado da loro ma questo dov'è sia il fuoco, ok, sono proprio qui deckshot beeeella fede non mi devo metterci dal lato sbagliato perchè sennò l'ho avuto qui vabbè dai, non so di cercare un po' più che qui mi pare un po' più in basso mi pare un po' più in basso ho colpito uno, uno è nato sotto la colpiamo piano da loro si affandati? si ok, c'è un border che ci sta arrivando mi ha ucciso, bastardo hai tirato le spadate ma sembrava che sembrava che di averlo colpito per farlo sganciare invece lui il salgo pezzo di merda quei cazzo di blando guarda ci siamo curati quindi questo è nato un favore io il salgo io sono in nave e lui credo sia sotto ok, sto per rientrare anch'io due di loro stanno rientrando adesso però sì c'è il fondatore Brandon Inflavuti oh, vabbè ci hai provato a uccidermi è morta ha failed out il colpo di blando